Benvenuti in questo nuovo episodio, oggi vi farò un breve tutorial su come pubblicare i vostri NFT La piattaforma che tratterremo oggi sarà OpenSea una delle più conosciute Se ne volete altri tutorial per quanto riguarda altre piattaforme come Rarible, Binance o tantissime altre scrivetelo qui nei commenti Diciamo che OpenSea è una delle più conosciute sia per la sua fallicibilità grafica, estetica e per quanto riguarda tutto il resto Ma soprattutto perché è aperta a tutti quanti rispetto ad altri che servono vari inviti oppure si devono fare degli acquisti oppure si deve pagare per entrare Invece OpenSea è come YouTube, si può pubblicare quello che si vuole attraverso le varie collezioni oppure anche vari post singoli Ora vi farò vedere i vari passaggi su come creare un account su OpenSea in Metamask perché ci servirà un wallet per entrare su OpenSea e come pubblicarli Innanzitutto dobbiamo scaricare uno dei wallet più importanti, io vi consiglio di utilizzare Metamask, ce ne sono tantissimi Metamask è un wallet per mantenere le vostre criptovalute come Bitcoin, Ethereum ma anche quelle minori come Shiba o tantissime altre Andranno a finire in questo wallet Metamask, ve lo consiglio anche perché graficamente è molto simpatico, molto facile da utilizzare Qui andranno a finire anche i vostri NFT, quelli creati e quelli che acquisterete, se li acquisterete ovviamente Applicazione che la trovate anche all'interno del vostro dispositivo mobile che se avete un iPhone o un Android potete loggarvi anche Una volta messo la password e le vostre credenziali potete anche loggarvi facilmente con il vostro Face ID o con la vostra impronta digitale Prima di tutto per creare l'account dobbiamo andare su Metamask, fare il download, io ora sto usando una pagina di Google che non ho mai fatto niente Dunque faremo i primi passaggi insieme Lo installeremo infatti, eccolo qua, lo aggiungiamo come estensione Faremo aggiungi estensione e andrà a finire in alto a destra Ora sono uscito all'F11 così possiamo vedere tutto ciò che sta svolgendo Sta facendo un piccolo caricamento Ok, una volta che il download sarà finito, un paio di megabyte Cliccheremo sul puzzle, se non vi esce già potremo fare così e qua sarà Metamask Ma già si è aperta la schermata, possiamo fare inizia Ovviamente io già tengo il mio account Metamask sul mio computer, il mio telefono e tutto il resto Se già lo avete anche voi perché lo avete utilizzato per altri scopi, non per fare OpenSea, per fare NFT ma per altre cose Potete inserire il vostro seed, ora vi faccio vedere brevemente Questo qua è il vostro seed, ovvero il seed sarebbe una frase di 12 parole diverse in inglese solitamente In questo caso si, e dovete metterle in ordine da 1 a 12 e poi metterete la vostra password Se invece ancora non avete creato il vostro seed, possiamo fare crea un portafoglio A consentiamo, metterete una vostra password e poi una volta che sceglierete la vostra password Vi verrà dato questo seed di 12 parole che non sceglierete voi, sono 12 parole casuali Come, non lo so, può essere million, trees, import, tante parole in inglese che messe insieme formeranno questo seed Ora, una volta creato Metamask, dobbiamo recarci su OpenSea Eccoci qua sulla pagina di OpenSea, come potete vedere in alto a destra il mio account non è loggato Infatti per loggare, ora andiamo a vedere Per loggarci ovviamente ci chiede Metamask, ci sono tantissime opzioni che potete utilizzare Io vi consiglio Metamask perché è uno dei più utilizzati, infatti sta anche scritto ma anche fatto meglio per quanto riguarda tutti i vari aspetti Infatti basta cliccare Metamask Ora qua non dovete inserire il vostro seed, ovvero le vostre 12 parole, che solitamente sono 12 ma possono anche essere di più Ma la vostra password, perché vi farà mettere una password, diciamo per fare dei login veloci E il seed ve lo chiederà solo quando andrete nei vari nuovi dispositivi Infatti se ora io con questo nuovo account voglio metterlo sul mio telefono, dovrò mettere tutto il seed Ma una volta che sono loggato sul mio telefono dovrò mettere tutto il seed, ma ho la password oppure il face ID e le varie cose Dunque ora io vado a mettere la mia password per farvi vedere in live che tutto funziona Mi fa il login e ovviamente poi vi si caricheranno tutti gli Ethereum e tutto che avrete Ok qua mi si è collegato il mio account, questa è la mia collezione ma questo ve ne parlerò di un video a parte Ho creato questa collezione, si chiama Crypto Pop, sono simpatici, sono un migliaio di personaggi tutti diversi Poi ve lo farò vedere, ovviamente una volta che siamo arrivati a questo punto è molto semplice pubblicare e creare Ci sono vari metodi, il primo è quello di pubblicare NFT casualmente, ma non ve lo consiglio Infatti anche se ne volete caricare un paio giusto per prova vi consiglio sempre di creare una collezione Infatti ovviamente ogni volta vi chiede di fare delle firme, non vi preoccupate, firmate tutto, controllate sempre E niente, questo vi chiederà, qua metterete l'immagine, il jpeg, un png, una gif, dipende che cosa state facendo Il nome, il link, se volete metterlo un link esterno, infatti ho collegato il mio sito www.macgames.it Una descrizione che se non la metterete, la lasciate vota, si metterà automaticamente la descrizione che metterete alla collezione Ovvero quando cliccheranno, la collection, ovvero io tengo queste qua, tengo solo questa al momento, ne sto creando delle altre Che poi lo aggiornerò, la cliccherete E poi ovviamente qua la blockchain, sta quella Ethereum e quella Polygon Ovviamente vorrò fare dei video per quanto riguarda le due blockchain In poche parole quella Ethereum non è gratis, non è gratuita Invece quella Polygon si, molti consigliano di utilizzare la Polygon Ma io vi consiglio di utilizzare la Ethereum Poi vi verrà un video approfondito su come comprarle e come pagarle a meno Perché in alcuni momenti della giornata può costare tantissimo Ma in altri veramente poco E vi dirò come scoprire e come trovare questi momenti opportuni Dunque però, volendo potete anche iniziare con Polygon Io così ho fatto e poi ho cambiato tutto in Ethereum È veramente molto semplice Poi, diciamo, questo è solo il primo video su come pubblicarli In futuro, ma vi caricherò altri video su come crearli Su come avere delle idee, che programmi utilizzare se volete fare qualcosa in pixel Oppure qualcosa magari in 3D, qualcosa di animato Dunque rimanete aggiornati, iscrivetevi, commentate se volete qualche consiglio o qualcosa Vi spiegherò, lasciando un bel like Bella